È la fame dovuta alla siccità a spingere questi porcospini che abitano i boschi del Casentino ad attaccare le cortecce di piante di Sambuco, a scoprirlo grazie alle fototrappole, lo studio di un gruppo di ricercatori che mette in luce questo nuovo fenomeno. Questi in Casentino sono i primi casi registrati in Italia, fino ad ora ne erano stati documentati altri ma solo in zone dell'Asia e dell'Africa, con un clima particolarmente arido. Il comportamento degli istrici infatti è tipico di un'altra specie, i castori. Gli episodi aritini sono stati registrati nelle zone boschive di Prato Vecchio e Stia e non rappresentano un buon segnale per l'ecosistema, come sostengono i biologi. Lo studio è firmato da un team di ricercatori, di cui fa parte Emiliano Mori, del CNR. In sostanza spiega ci sono arrivate testimonianze di attività tipica del castoro, ma non riconducibile ad esso, piante rosicchiate, cortecce strappate, soprattutto sul Sambuco. Siamo giunti alla conclusione che l'istrice è spinto dalla fame a scortecciare le piante, non riuscendo a trovare altro durante i mesi invernali. L'istrice, continua Mori, si nutre normalmente di graminacee e girasoli, ma d'inverno scava per cercare bulbi di gladiolo, di ciclamino e radici di pungitopo. Non riuscendoci si è così adattato. Non solo, gli istrici, a causa della penuria di cibo, continua il ricercatore, potrebbero ulteriormente spingersi verso le città, come già sta avvenendo a Roma o a Firenze.